Anche i segretari della CISL Molise e della FISASCAT Maurizio Spina e Leonardo Piccino dicono no all'apertura dei negozi nel giorno di Pasqua. Nella più ampia vertenza aperta in merito al caso di un outlet di Serravalle e Scrivia vicino a Alessandria, gli esponenti sindacali molisani, in linea con i vertici nazionali, continuano ad opporsi all'attività degli esercizi commerciali durante le festività. Secondo le ultime indagini, affermano Spina e Piccino, i consumi sono in calo, le famiglie abruzzese e molisane non spendono più e per questo non si giustificano le aperture durante i giorni di festa. Lavorare a Pasqua non significa altro che proseguire nella disumanizzazione del lavoro. La decisione delle aperture selvagge non porta beneficio al commercio e ai portafogli delle lavoratrici e dei lavoratori. E mentre sono stati proclamati due giorni di sciopero a Serravalle e Scrivia sull'apertura a Pasqua dell'outlet, anche in Abruzzo e Molise ci saranno varie iniziative per sensibilizzare le persone al problema e suggerire alle famiglie di trascorrere più tempo insieme, concedendosi un po' di riposo e lunghe passeggiate nei parchi e non nei centri commerciali. Il giorno di Pasqua, continuano i sindacalisti, non può diventare un giorno di consumismo. Per questo invitiamo i cittadini a non fare shopping a Pasqua. Le aperture andrebbero concordate con enti locali e sindacati. Quando si parla di flessibilità oraria, bisogna rivendicare una contrattazione di secondo livello sull'organizzazione del lavoro, capaci di regolamentare un certo numero di prestazioni domenicali e festive su base volontaria e maggiorazione economiche che riconoscano e premino l'impegno e la professionalità dei lavoratori.